Per i mercati borsistici europei un'altra giornata difficile dopo la caduta di Wall Street non frenata neanche dal discorso di Obama, ancora in difficoltà i listini europei. Milano si difende e fa segnare addirittura un piccolo rialzo con i buoni risultati dei titoli bancari. Gli acquisti da parte della Banca Centrale Europea di titoli del debito pubblico italiano ottengono lo spread sotto i 280 punti. Il Presidente Trisce sollecita i governi di Roma e di Madrid a fare il loro lavoro per tornare all'equilibrio. Nella riunione di domani con le parti sociali il Governo avanzerà le sue proposte per fronteggiare la crisi. Tra le possibili misure il blocco delle pensioni di anzianità e l'anticipo alle 2012 dell'allungamento dell'età per le donne. Faremo tutto il necessario per ristabilire l'ordine. Si tratta di pure e semplice criminalità. Il premier inglese Cameron è durissimo sugli scontri che continuano a Londra e che si stanno estendendo ad altre città inglesi. 16.000 gli agenti impegnati, 450 gli arresti solo nella capitale. Buongiorno a tutti voi dal telegiornale della Sette. Lo avete sentito dai nostri titoli per le borse europee. Anche oggi è stata una giornata piuttosto difficile, una giornata diciamo alta allenante. Piazza Affari per esempio questa mattina ha cominciato bene, poi ha segnato, poi nel corso della giornata è peggiorata. In questo momento sta tentando il recupero e segna anche uno 0,7%. Come stanno tentando di recuperare anche tutte le altre borse europee come Francoforte, Parigi e Londra che erano andate a metà mattinata molto molto male. Non recupera invece Atene che sta andando male in questo momento. C'è anche un'altra nota positiva che riguarda i BTP che recuperano rispetto ai Bund, cioè i titoli pubblici tedeschi. Allora, seguiamo questa giornata nel servizio di Sonia Mancini. L'altalena dei mercati finanziari continua. Dopo la caduta a precipizio di Wall Street che ha segnato la peggiore seduta dal 2008 col Dow Jones sotto di oltre 5,5 e il Nasdaq di quasi 7, le piazze asiatiche fanno il bis. Tutte in calo, eccetto Shanghai, di poco sopra lo zero. E non va meglio agli investitori europei che vivono giornate fotocopia, tutte in nero. Oggi persino peggio di ieri. Ad aprire in positivo sono solo Milano, Madrid e Parigi, mentre Francoforte e Londra rimangono poco sotto lo zero. In meno di un'ora lo scenario cambia completamente. Le borse europee crollano. Piazza Affari strofonda a meno 3,22% contro il meno 2,35% della chiusura di ieri. In netto calo i bancari, Pirelli, Tenaris e la Galassia Agnelli, sospesi per eccesso di volatilità, ovvero per i continui seggiù attorno allo zero. Secondo le analisi di alcuni operatori, alle 9,55 la BCE avrebbe fatto scattare per la seconda volta dopo ieri gli acquisti di titoli spagnoli e italiani con l'obiettivo di abbassare gli spread e come conseguenza indiretta calmirare i mercati. Obiettivo raggiunto, ma solo in parte. Londra, Francoforte ed Amsterdam cadono a picco perdendo in media il 5% e neppure le beneficiari del sostegno dell'Istituto Centrale sembrano trarne vantaggio. Madrid va sotto di oltre tre punti, Milano di due e mezzo. Insomma, è un nuovo tsunami di vendite che vede gli investitori in preda al panico. Il nervosismo sembra destinato a crescere nelle prossime ore, nell'attesa delle decisioni del direttorio della Federal Reserve chiamata a decidere se aumentare o meno il costo del denaro statunitense. L'unico dato positivo di oggi per l'Italia, legato a doppio filo con gli interventi calmiranti della BCE, riguarda proprio lo spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi, tornato sotto la soglia dei 280 punti con rendimento del decennale sceso al 5,09%. Riprendono fiato anche i bonus spagnoli, 269 punti lo spread rispetto ai Bund e 5,01% il rendimento del decennale. Al momento Piazza Affari galleggia in positivo. C'è ancora un intero pomeriggio per sperare di evitare la replica dell'ennesima giornata nera. Dicevamo che le borse europee stanno recuperando, in questo momento Parigi torna positiva con un 0,84%, anche Madrid sale allo 0,39% e Piazza Affari, che oggi è stata la migliore, in positivo a più 1,34%. In questa situazione il presidente dell'Eurogruppo Juncker è tornato ad invitare Italia e Spagna affinché realizzino le riforme strutturali necessarie. È fondamentale, ha detto, questa crisi dipende dal debito eccessivo di alcuni stati europei come l'Italia. È un debito che colpisce pesantemente anche gli Stati Uniti. Obama ieri ha detto che gli USA sono un paese da tripla AMA Wall Street. Non ha risposto bene, anzi ha risposto molto male. Il servizio è di Frediano Finucci. Quanto durerà la bufera sui mercati finanziari europei? Per capirlo occorre tenere d'occhio i due attori principali della tragedia che sta sconquassando le borse di tutto il mondo, la Banca Centrale Europea e gli Stati Uniti. Da ieri, come sappiamo, la BCE ha cominciato ad acquistare i buoni del tesoro italiano e spagnoli per abbassare il divario del rendimento con i Bunda tedeschi. Oggi Trichet ha precisato ad una radio francese che continuerà con questa operazione senza dare dettagli sulla tempistica e la quantità. Ma anche a Monito la Banca Centrale non può fare il pompiere a lungo. Per questo è stato creato il fondo a salva stati, le cui munizioni però, 440 miliardi di euro, non sono sufficienti a difendere dalla speculazione grandi stati come Italia e Spagna. Munizioni che vengono pagate per quota dagli stati membri dell'euro ed essendo la Germania il più grande, a questa va il maggiore onere. Ma anche la Merkel ogni giorno che passa deve fronteggiare la fronda interna del suo partito che capta il malumore dei tedeschi, stufi di pagare per gli spendazioni greci e ora anche per italiani e spagnoli. Triscella ha ribadito, noi compriamo ma Roma e Madrid devono darsi una regolata e rimettere in sesso le loro finanze. Concetto espresso pari pari dal capo dell'Eurogruppo Juncker su di un quotidiano del suo paese, Lussemburgo. È fondamentale che l'Italia e la Spagna realizzino le riforme strutturali annunciate, ha detto Juncker che ha aggiunto i risparmi sono al sicuro, l'euro è una moneta stabile, non si tratta di una crisi dell'euro ma di una crisi del debito eccessivo di alcuni paesi dell'eurozona. Debito eccessivo, parola da incubo anche per Barack Obama che ieri sera è intervenuto a mercati aperti per ribadire che gli Stati Uniti sono e restano una potenza da AAA nonostante il declassamento di Standard & Poor's. Mossa che non è piaciuta ai mercati che sono sprofondati riportando l'orologio delle perdite ai tempi del crack Lehman del 2008. Insomma Obama sembra non aver azzeccato la mossa, speriamo l'azzecchi la Federal Reserve. La banca centrale americana oggi si riunisce per capire se nella sua cassetta degli attrezzi c'è ancora qualche strumento per far battere un colpo all'economia a stelle strisce. Non è il caso della riduzione dei tassi di interesse, oggi prossimo allo zero, ovvero un quarto di punto, l'unica alternativa è aumentare la liquidità, mossa utile e al tempo stesso pericolosa, perché potrebbe innescare una spirale inflattiva, un altro incubo per la superpotenza che teme, da un giorno all'altro, di risvegliarsi in recessione. L'Europa quindi chiede all'Italia di attuare subito le misure strutturali per fronteggiare la crisi. Tra le richieste principali c'è quella di anticipare l'equilibrio di bilancio alle 2013. Domani ci sarà l'importante incontro tra le parti sociali e il ministro delle welfare Sacconi. Sacconi che ho già detto non è il momento di resistenze caparbie. Lavoro in corso, a 24 ore dal primo atteso appuntamento di questo agosto infuocato, domani pomeriggio il governo sarà a confronto con le parti sociali per mettere nero su bianco le misure di emergenza che serviranno per reperire quei 20 miliardi di euro necessari ad anticipare il pareggio del bilancio al 2013. In odore di un tavolo che si annuncia a battagliero, il ministro del welfare Sacconi mette le mani avanti e in una lettera al Corriere della Sera lancia un invito alle opposizioni e alle parti sociali. Non è il momento di resistenze caparbie. Il riferimento non è puramente casuale, ma rivolto a quella ostilità che da più parti in queste ore si sta manifestando nei confronti dell'ipotesi di mettere mano alla Previdenza e alle pensioni di anzianità. L'unica eccezione, scrive il ministro, la fa il leader dell'Udc Casini che chiede invece l'inalzamento dell'età pensionabile per le donne. Sacconi, sempre con il mirino rivolto alle polemiche dell'opposizione, scrive che non ci sono maggioranze diverse da quelle attuali che possono essere ritenute più disponibili al cambiamento, nemmeno per sostenere ambiziosi tecnici che aspirano senza fatica ad un ruolo politico, conclude il ministro del Lavoro con un chiaro riferimento a Mario Monti che nell'editoriale di domenica sul Corriere della Sera aveva parlato di governo commissariato. Lavoro in corso, dicevamo, anche per il ministro dell'Economia Tremonti che dopo aver incontrato ieri i bossi a Gemonio si prepara la sua rantre alla Camera giovedì davanti alle commissioni affari costituzionali e bilancio di Camera e Senato quando dovrà illustrare le modifiche alla Costituzione sulla libertà di impresa e obbligatorietà del pareggio del bilancio. Parter d'eccezione per questo appuntamento tutti i big da Bersani a Casinia, Di Pietro a Rutelli saranno pronti a prendere la parola dopo la relazione di Tremonti. Ferie interrotte per tutti dunque Berlusconi dalla Sardegna tornerà a Roma tra domani e dopo domani rientrerà nella capitale anche il leader della Lega Bossi che ha già annunciato un suo incontro con il Premier per chiedere diversi punti come le liberalizzazioni. Il leader della Lega evoca quindi la patrimoniale o un ripristino dell'ICI ipotesi questa che però non piace al Premier che insiste su un punto, il piano di rigore. Venerdì torna al Quirinale anche il capo dello Stato napolitano pronto a mettere la firma su eventuali decreti che arrivassero dal Governo. Lavori in corso dunque che culmineranno nel giorno di Ferragosto quando secondo indiscrezioni si starebbe meditando di convocare un Consiglio dei Ministri che acquisterebbe dunque un valore simbolico della serie mentre gli italiani sono in vacanza noi siamo al lavoro se non ora, quando? Al lavoro è anche il Ministro dei Beni Culturali Galanne che ha detto che nella bufera della crisi economica anche nella bufera della crisi economica Silvio Berlusconi può farcela condizione che si libri di chi come Giulio Tremonti intona la solita litania dei no. Invece per l'opposizione Berlusconi deve fare un passo indietro il servizio di Marinella Resta. Al Paese non serve un commissariamento ma un nuovo Governo Pierluigi Bersani indica in un'intervista all'Unità la strada per uscire dalla crisi il problema non sono i sacrifici che vanno fatti ma la possibilità di scegliere da soli la ricetta in Italia non è possibile perché il Governo è debole la miglior soluzione, torno a ripetere sarebbe un passo indietro del Premier intanto il PD aspetta giovedì quando Tremonti parlerà a Montecitorio di fronte ai big di opposizione e maggioranza nella riunione delle commissioni congiunte bilancio e affari costituzionali di Camera e Senato in quell'occasione il Ministro dovrà pur dire qualcosa in più sulle ricette del Governo per reperire i miliardi necessari per far quadrare i conti entro il 2013 e non saranno parole facili da pronunciare visti i sacrifici che si annunciano i democratici affilano le armi e intanto mettono a punto proposte alternative ma soprattutto indicano confini invalicabili non ha misure che pesino sulle tasche dei ceti più deboli dice Bersani che rilancia la tassazione delle rendite finanziarie e dei grandi patrimoni la lotta all'evasione fiscale e le liberalizzazioni divieto però di toccare le pensioni diktat che trova d'accordo anche il partito di Di Pietro una sponda politica per i sindacati ricompattati di fronte alle indiscrezioni che parlano di una mannaia pronta ad abbattersi sulla Previdenza e che con queste premesse si preparano all'incontro di domani con il governo intanto oggi Casini si smarca dall'abbraccio della maggioranza il leader ODC a nome del terzo polo rivendica l'atteggiamento dialogante ma esclude che questo coincida con un rientro nella maggioranza evocato da scenaristi e suggerito da diversi esponenti del PDL in arrivo il momento dei sacrifici quindi sia la responsabilità ma diverso è per il terzo polo contestarsi le misure impopolari che verranno lo sfogo è affidato al social network Facebook è abilente che davanti ad una opposizione che si occupa delle sorti del paese in un momento drammatico scrive Casini ci sia chi strumentalizza con le solite logiche di Palazzo siamo e rimaniamo all'opposizione di Berlusconi e continuiamo a operare solo per l'Italia e gli italiani il problema quindi resta dove trovare i soldi i soldi sul piatto ci sono argomenti pesanti abbiamo visto come quello della previdenza delle pensioni le servizie di Marco Ferini dal salvadanaio dello Stato mancano 20 miliardi di euro come si troveranno? l'anticipo al pareggio di bilancio entro il 2013 impone al governo l'approvazione al più presto di provvedimenti che potrebbero riguardare previdenza sociale, fisco e una modifica della Costituzione alcune di queste misure possono essere presentate attraverso un decreto per quanto riguarda il capitolo pensioni il governo ha a disposizione molti possibili interventi si potrebbe lavorare innanzitutto su quelle di reversibilità oggi sono 5 milioni e chi le riceve ha una copertura dell'80% una liquota che potrebbe essere ritoccata al ribasso o adeguata all'effettivo reddito del beneficiario in secondo luogo potrebbe essere anticipato l'aumento dell'età pensionabile per le donne nel settore privato dagli attuali 60 anni a 65 la norma avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2030 ma potrebbe essere anticipata c'è anche l'ipotesi di anticipare al 2012 l'adeguamento delle pensioni all'aspettativa di vita e passare dal calcolo attuale misto al solo sistema contributivo cioè quanto abbiamo effettivamente versato all'Inps nella nostra vita potrebbero infine essere disincentivate le pensioni di anzianità in favore di quelle di vecchiaia il terreno è particolarmente delicato ed i sindacati sono già sul piede di guerra il segretario della CISL Bonanni oggi fa sapere di essere d'accordo con la stretta sulle pensioni di invalidità se ci sono abusi ma sulle pensioni di anzianità non se ne parla e anzi rilancia la politica deve prima mettere mano sui suoi domini province spese istituzionali costi della politica serve prima una profonda riforma dello Stato afferma il leader della CISL il secondo capitolo dei provvedimenti riguarda invece una modifica della Costituzione una trasformazione in senso più permissivo dell'articolo 41 sulla libertà d'impresa e ovviamente la norma che impone allo Stato di arrivare al pareggio di bilancio entro la fine di ogni anno c'è infine una proposta di legge che vedrebbe la riduzione del numero dei parlamentari e la trasformazione del Senato in senso federale e adesso andiamo a Londra dove per la terza notte consecutiva ci sono stati violenze scontri con la polizia scontri che si sono estesi in altri quartieri periferici di Londra non solo ma anche in altre città inglesi quindi la situazione è molto difficile molto pesante è tornato dalle ferie anche il premier Cameron che ha annunciato l'arrivo di nuovi agenti di polizia quindi 16.000 agenti sulle strade giovedì 11 ci sarà anche la riunione straordinaria del Parlamento e da cosa nasce tutta questa violenza sentiamo subito i servizi che sono di Carla Rumor e Paola Mascioli Londra si sveglia dopo la terza notte di guerriglia urbana lo scenario ed apocalisse il fumo che si alza dalla città è quello che rimane dei palazzi delle case e dei negozi dati alle fiamme a terra per le strade i segni della violenta rivolta degli atti vandalici dei saccheggi del lancio di razzi e molotov contro gli agenti antisommossa piange la gente incredula di fronte alla devastazione che la circonda come questa donna che racconta gli attimi di terrore vissuti quando un gruppo di ragazzi questa notte è entrato in casa sua finora 10 milioni di euro di danni almeno 450 persone arrestate oltre 60 feriti una rivolta che la Gran Bretagna non aveva mai visto nella sua storia recente e dunque ecco cos'è successo stanotte per le strade dal quartiere di Tottenham dove tutto questo è cominciato a causa dell'uccisione da parte della polizia di un ragazzo pregiudicato di colore che cercava di fuggire all'arresto la violenza si è stesa a tutta la città ancora più a nord nel quartiere di Anfield fino a sud a Brixton a Croydon passando per il cuore della capitale Oxford Circus Camden Town Notting Hill affollatissime mete turistiche scontri si sono verificati nelle città di Birmingham Liverpool Bristol e Nottingham anche qui le stesse scene ragazzi e ragazze incappucciati persino ragazzini che distruggono i negozi assaltano gli scalfali distruggono tutto ciò che incontra la politica di fronte a questo scenario interrompe le vacanze torna il sindaco di Londra Ken Livingston che definisce la situazione incontrollabile torna il segretario degli interni Teresa May non c'è nessuna scusa per tale violenza dice e torna il primo ministro David Cameron che ha convocato uno speciale comitato di crisi al termine una breve conferenza stampa da Downing Street per condannare totalmente quella che definisce pura e semplice criminalità chi ha sbagliato pagherà pagherà per i danni che le famiglie e l'economia del paese hanno subito e pagherà per aver terrorizzato un'intera popolazione state mettendo a rischio non solo la vita delle persone ma anche la vostra lancia un appello ai giovani e anche il calcio si ferma la partita contro l'Olanda è stata rimandata l'impiego delle forze dell'ordine per sedare la rivolta deve essere totale stanotte Scotland Yard manderà in strada 16.000 poliziotti la rivolta sta dilagando come se la miccia accesa a Tottenham trovasse benzina sul suo cammino dal quartiere dove la polizia ha ucciso Mark Dagan è arrivata in poche ore in altre zone e poi in altre città cosa alimenta tanta furia è adesso argomento di dibattito per il premier David Cameron si tratta solo di criminalità pura e semplice ma dietro tanta rabbia ci deve essere dell'altro a dar battaglie incendiare distruggere saccheggiare non sono solo giovani neri etnicamente discriminati ci sono anche i bianchi giovani disoccupati provenienti da quella che un tempo era la working class che oggi non ha più lavoro né speranza di trovarlo l'ex sindaco di Londra Ken Livingston attribuisce le responsabilità alla crisi economica all'aumento della disoccupazione arrivata a Tottenham al 10% della popolazione ai tagli che hanno colpito soprattutto i sostegni alle comunità a saltare in aria non è stata la Londra multietnica ma il sistema sociale britannico che colpito dalla crisi non offre più speranza ai giovani che stanno sfogando la loro rabbia cieca su tutto quello che non possono avere auto, case, negozi di elettronica, banche le immagini di questi giorni ci ricordano altre rivolte come quelle francesi o greche ma in comune hanno poco se non ciò che le ha innescate l'uccisione di un ragazzo da parte della polizia successe nel 2005 in Francia nella banlie di Clichy-sur-Bois dove due quindicenni inseguiti dagli agenti si rifugiarono in una cabina elettrica morendovi fulminati la rabbia delle periferie abitate da generazioni di immigrati africani e magrebini esplose fu guerra alla polizia devastazione di negozi e banche incendi e barricate l'allora ministro degli interni Nicolas Sarkozy decretò lo stato d'emergenza definì fecce rifiuti della società a coloro che davano battaglia mettendo a nudo il fallimento della politica di integrazione degli immigrati in Francia successe ad Atene tre anni dopo un ragazzino fu ucciso dalla polizia nel quartiere anarchico per eccellenza Exarchia e la rivolta diva un po' in tutte le città della Grecia per giorni anche in questo caso banche e negozi i simboli della globalizzazione furono presi di mira dalla furia distruttrice dei ragazzi gli stessi che periodicamente si infiltrano nelle manifestazioni contro la politica di austerità del governo per scontrarsi con la polizia in fondo la loro rabbia è più vicina a quella che oggi sta incendiando la Gran Bretagna torniamo in Italia facciamo al punto sulla cronaca giudiziaria perché poco fa il Tribunale del Riesame ha colto l'accusa di associazione per delinquere contestata dai PM di Napoli nei confronti degli indagati dell'inchiesta napolitana sulla cosiddetta P4 che vede coinvolti come sapete il faccendiere l'uomo d'affari Luigi Bisignani agli arresti domiciliari e il deputato Alfonso Papa agli arresti il Tribunale degli Esami quindi ha depositato l'ordinanza accogliendo le richieste dei PM Woodcock e Curcio relativa all'esistenza del reato associativo il GIP infatti nelle ordinanze di custodia aveva escluso questa ipotesi e poi ieri si è chiusa l'inchiesta romana sulla cosiddetta P3 il servizio di Sergio Gamberale faccendieri e magistrati onorevoli e imprenditori tutti insieme in un'organizzazione dedita a corruzione abuso d'ufficio illecito finanziamento diffamazione e violenza privata e volta a condizionare organi costituzionali e apparati dello Stato la P3 emerge così dalle carte della Procura di Roma consegnate ai legali di 20 indagati l'inchiesta dei pubblici ministeri Capaldo e Sabelli è chiusa le cifre dei soldi versati e incassati e la lista dei processi aggiustati sono ora nero su bianco a rischiare il rinvio a giudizio sono nomi importanti oltre ai presunti capi dell'organizzazione già riconosciuti il faccendiere Flavio Carboni l'ex giudice tributario Pasquale Lombardi e l'ex assessore Campano Arcangelo Martino a fondare e gestire la loggia occulta sarebbero stati secondo i magistrati anche l'ex coordinatore del PDL Denis Verdini e il senatore Marcello Dell'Utri i reati loro contestati sono associazione a delinquere e violazione della legge Anselmi sulle società segrete i legali di Verdini parlano di ipotesi surreale a loro dire gli atti e le intercettazioni dimostrano esattamente il contrario ma per i magistrati il gruppo esisteva e come e ne facevano parte anche gli onorevoli del PDL Massimo Parisi e Nicola Cosentino oltre all'ex presidente della Cassazione Vincenzo Carbone indagato per corruzione accanto a loro anche diversi imprenditori che avrebbero versato tangenti più o meno mascherate finanziando progetti politici o fondazioni culturali in cambio di appalti e commesse diversi i fatti contestati agli indagati i presunti membri della cosiddetta loggia P3 avrebbero tra l'altro tentato di aggiustare il processo tra Mondadori e Agenzia delle Entrate avrebbero intascato mazzette per gli appalti dell'eolico in Sardegna si parla di ben 5 milioni e mezzo di euro tentato di influenzare la decisione della consulta sull'Odo Alfano diffuso notizie false contro Caldoro per favorire l'ex sottosegretario alla giustizia Nicola Cosentino nella corsa alla poltrona secondo gli inquirenti è implicato l'accusa e di abuso d'ufficio sul business dell'eolico il governatore della Sardegna Ugo Cappellacci non invece il sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo il cui nome esce dall'inchiesta si torna a parlare dell'assassidio del presidente americano John Kennedy in una intervista che doveva restare segreta per 50 anni ma la figlia ora ha deciso di svelarne i contenuti le servizie di Luca Giannelli un libro di prossima uscita un programma televisivo un ciclo di interviste inedite un cognome che non smette di suscitare curiosità e interesse Kennedy l'intera vicenda è vestita agghindata in perfetto stile marketing americano con passaggi non sempre trasparenti ma al suo interno ora prende corpo l'inevitabile retroscena della storia relativo all'attentato di Dallas ma andiamo per ordine le interviste sono quelle rilasciate da Jacqueline Kennedy vedova da pochi mesi allo storico e giornalista libera la famosa Arthur Schlesinger scomparso nel 2007 e delle quali era stata lei stessa a chiedere poi la segretazione per 50 anni dopo la propria morte per timore si dice di rappresaglie contro i suoi familiari a cominciare dai figli e invece che è successo è successo che proprio l'unica erede Caroline abbia deciso di pubblicarle prima queste interviste costruendoci un libro e dando la possibilità poi all'emittente ABC di trasmetterle in televisione in cambio della rinuncia a trasmettere il serial non autorizzato i Kennedys già mandato in onda peraltro negli Stati Uniti ma finora solo via cavo e in Italia sulla nostra rete la notizia uscì già nell'aprile scorso ma ora alla vigilia dell'uscita del libro si rendono note opportunamente alcune parti delle affermazioni di Jacqueline contenute nelle interviste in questione anticipazioni tali da attirare l'attenzione a tutti i livelli utili a far discutere sia gli storici che le riviste da parrucchiere clamorosa no ma rilevante di sicuro è per esempio la convinzione di Jacqueline e forse chissà a questo punto delle persone più vicine alla coppia presidenziale della parte attiva avuta nell'attentato organizzato dice lei da uomini d'affari texani del vice di Kennedy Lyndon Johnson e suo successore già al centro di tanti sospetti ma del quale erano note finora solo le forzature e le ambiguità tenute in tutta la fase successiva che finirono per avvalorare la tesi ufficiale dell'attentatore solitario Lee Oswald una tesi ritenuta però poco attendibile non solo da registi come Oliver Stone nel film GFK ma anche da molti studiosi quanto all'aspetto leggero le rivelazioni riguarderebbero alcune avventure amorose di Jacqueline come per esempio con l'attore William Holden e con l'industriale italiano Gianni Agnelli dicevamo della situazione a Londra una situazione molto difficile molto pesante c'è un flash di agenzia è morto uno dei feriti dei tanti feriti che sono stati ricoverati nell'ospedale di Londra in questo momento state vedendo le immagini le immagini che arrivano appunto da Londra sono immagini in diretta vedete le macchine le macchine della polizia gli uomini la situazione in questo momento ci sono stati come sapete la situazione è molto molto difficile è tornato anche dalle ferie il presidente Cameron in questo momento ci sono c'è un'autobotte delle vigili del fuoco di Londra della polizia che stanno controllando le strade quindi le strade sono sotto controllo tra poco vedremo se ci sono aggiornamenti se ci sono appunto aggiornamenti da Londra andiamo andiamo allo sport al mercato perché è in arrivo una super offerta per Eto che potrebbe sbloccare il mercato dell'Inter vediamo il servizio che è di Umberto Nigri 35 milioni all'Inter 60 netti per tre anni al giocatore questa la grande offerta del club russo Asni che potrebbe portare Samuel Eto lontano da Milano quello che soltanto una settimana fa sembrava fantacalcio ora è davvero una possibilità concreta il camerunense sotto contratto con l'Inter per i prossimi due anni avrebbe chiesto al presidente Moratti un prolungamento almeno per un'altra stagione o perlomeno un adeguamento dell'ingaggio il rifiuto del numero uno Nerazzurro avrebbe convinto Eto'o a prendere in seria considerazione l'offerta russa decisive saranno le prossime ore così come lo saranno anche per capire il futuro dell'altro interista sul piede di partenza Snyder per lui si prospetta un futuro a Manchester da capire se al City alla corte di Roberto Mancini o alla United come vorrebbe Sir Alex Ferguson venduti i due giocatori o almeno uno dei due a quel punto i dirigenti Nerazzurri avrebbero i soldi necessari per arrivare all'acquisto di Carlitos Tevez l'obiettivo principale per l'attacco l'argentino pur di lasciare l'Inghilterra sarebbe disposto a ridursi l'alto ingaggio di nuovi milioni di euro a stagione l'alternativa a Tevez è la Vezzi ma sull'attaccante del Napoli c'è da superare la forte concorrenza del Manchester City che pensa a uno scambio con Balotelli che ha stufato anche Mancini ed è un passo dall'addio a Manchester si allontana dalla Juventus lorandese Elia l'Hamburgo ha rifiutato l'offerta bianconera di 7 milioni di euro si avvicina invece l'esterno della Fioritina Vargas l'ideale per Antonio Conte per coprire l'ultimo tassello quello della fascia sinistra del mosaico bianconero e adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria tra poco non ci sono aggiornamenti il telegiornale finisce qui vi ricordo il nostro sito tgla7.it anche l'edizione delle 20 del nostro telegiornale grazie per averci seguito e buona giornata